ciao a tutti benvenuto a questo gameplay è rimasto che avevo affrontato il tigrex affetto da frenesia e mi ha affermato qui quindi proseguo e devo proprio cambiarmi dalla testa ai piedi perché adesso ho da affrontare lo zinogre infetto da frenesia ecco qua allora ok questo guardiamo dopo decorazione via dato che lo zinogre di ciato non soffre non soffre il tuono visto che è lui l'elemento tuono allora stai da torno Banahara buonanotte ho solo quella di Banahara allora andiamo un po' mi piace la orsa sempre vorrei cambiare ma a proposito se non ricordo male ho tutto 7 del tigrex mi pare di ricordare non ci sembrava proprio bene negarci non ci sembrava perché guardiamo due negarci la fai ciattro giusto Molto bella, vediamo un po' le proprietà che le dà, le abilità, aumenta potente anche il tuono, vabbè, aumenta efficacia gli oggetti per il piste della vita, bene dai, eh sì, non ho guardato però io quanto ho, resistenza tuono 6 e 11 ghiaccio, alla faccia, e un'altra cosa, 91 di difesa, no, troppo basse, vediamo se posso migliorarmi, guarda questa difesa qua, usano un mastro, no, guarda questa fase a 21, sta pure, sta pure, beh qua aumenta la manetta può soffrire, sì, bene, la manetta la manetta, vediamo da 21, da 91, c'è 214, c'è un gran che, ma comunque, meglio di niente, bene, allora adesso, devo preoccuparmi dell'arma, che semina soffre il ghiaccio, e questa è molto buona proprio perché l'acqua non va bene, mi pare che di tagliamento solo questa, infatti, ok, attacco ghiaccio, e poi ho già finito gli attacchi ghiaccio, abbiamo anche altre armi e vatture che le equipaggiavano, non credo, insomma, non credo, insomma, questa armatura del ghiaccio mi piace molto, e anche, in base al fatto che sia bendata, una bella battagliera, che ha subito delle ferite, ma è sopravvissuta, allora per il ghiaccio, e vai, solo qua, peccato, non è, meglio di niente, ok, un po' a posto, qua, viaccio, viaccio, qua metto acqua, e qui idem, andiamo un po' qua, un po' a post allora, porca puttana, queste sono obbligatorie, questo pure, questo idem, un bombolettano di serve perché lui fa un attacco del genere, guarda qua, mi stai vivendo, cote obbligatorie, perfetto, sono senza miele, allora, qua apposta, apposta, ok in caso volessi catturarlo, mi salva un po' di sì, questo lo vendo, direi che questo va a posto, poi, e che praticamente ragazzi no, mi servono armi di ghiaccio, eccola qua, ottimo come, a livello dei danni, e vi salva resistenza tuono, allora, tre, perfetto, tre, ottimo, poi, cinque, wow, cucinare la resistenza, vero, le rigute, ragazze, veramente va-ri, va-ri, va THE GOD, allora, no, scusi, no sì, volevo vedere una cosa a lei, ma non è proprio cosa, ah giusto un'arma ok va bene io volevo vendere no non devo vendere a lei scusi lei vende solo armi devo andare dalla signora signora sono qua devo vendere questa signora dai grazie andiamo sono pronto vabbè fuoco poi vedo che il pesce a bocchino un effetto incazzo aumento percentuale combinazione la forza di calci e le cagate in effetti il cibo per mamma che si apparebbe in sensi battaglia beh a volte non funziona non so perché è sta cosa bene ragazzi e io di danni attacco ghiaccio su per sé appunto salve buonasera se ne è questa poco lì il matografico della faccia in faccia eccolo qua finisce il rosso della zinogra monte paradiso quindi si parte per la caccia tutto l'energia perfetto la riguda ragazzi andiamo ok vado di qua ma levate stavolta cambio strada no non vedo nessuna nessun zinogra non ci provate le maobra buttami giù perché ancora meno vi sparo poi queste armi qua hanno un sistema anche della lama lama critica mi parlo che si chiama si può potenziare l'attacco dell'arma ma però se c'è un amico il compagno eccolo qui non ho anche quello che serve non è come ma anche no che è un bel verde che è bene ok ciao tutti ciao amici ci vediamo di un'ora a segare sto zinogra eccolo qua maledetto vediamo se ciò cavalcarlo c'è una zinogra di merda ecco che mi sono già potenziato l'alba scappi già a zinogra scappi già a zinogra sei veramente un codardo pan ma perché fa sempre così dai stronzo ci vediamo ci vediamo ci vediamo io comunque vi odio quando state a boccizzone ma vi odio su serio fate a fidarti fa male aiuto che fa e mori grazie al cazzo male sono qua io guarda che questo passo ti osserva e ti controlla non mi testo ecco non sapevo che facevi quello ecco adesso sono cazzi aiuto aiuto che fai zanagra continua avanti che figata ti f*** ti f*** ti f*** ti f*** ti scavalcherai ti scavalcherai oh cazzo così impari non ce la fai liberarti ti riesco prima ne vai per il momento me ne vado perchè devo sistemarmi l'arma e anche la resistenza non guasterebbe e anche un po' legge ma avete sentito? c'era c'era zanagra che volulava nooo è frenetico sentite che tassale fa è già frenetico Uri c'è già frenetico ma vabbè ma vabbè che fai aiuto fatta miseria mia mi ha affrettato dalla filosia che fai dai che cazzo fai? madonna miseria che cazzo fai? adesso c'è un attacco potenziato tutti i foto cazzo tutti i foto cazzo ehi adesso c'è un attacco potenzialato che cazzo fai? che cazzo fai? che cazzo fai? che cazzo fai? basta che ti muovi e che non resti la vita Leo che è verso malato che hai? si è sentito alla faccia ma voi ragazzi siete grandi aiuto ma sentiti che verso assurdo che hai sempre preso molto mal a livello diverso buonanotte malefico aiuto madonna aiuto ma te pareva ogni volta mi riesco a colpire ok sei un gran pezzo di merda tra poco la frenesia mi attacca ma va a fare in culo la dromedicina ma dai scusa scusate ma vaffancula anche si può sentire questo verso qua perfetto la frenesia mi ha colpito no cazzo cosa imparare ah non ribatti eh è troppo tutta grande adesso cavalli pati cazzo eeeh sotto il fuoto cazzo sotto il fuoto cazzo sotto il fuoto cazzo sotto il fuoto cazzo pan pan merda via ma va la pazza mi ha colpito non so ne cazzo affatto sapevo che ragazzi ho rischiato ah meno male che veramente gli effetti del cibo te la mancano anche a volte mi è successo che anche non era così bene questo è via e ce l'ho anche qua davanti il signorino signorino zinogra sono qua beh male ah 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 che male piccolo zinogra poverino lui per modo di dire che moto sa cosa vabbè affanculo stronza guardatelo non ce la fai non ce la fai dove vai non ti si può sentire che cazzo fai perché poi rimbalzo non ho capito che fa il zinogra anzi visto che ci sono potrei utilizzare un controattacco ti ho fottuto la grande ti sto fottendo tra bello ti ho fottuto ti ho fottuto sì 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 non è poeta male troppo tra le robole No, che appareva, aveva poi il primo suo stronzo, ma quest'arma qua è un rischio. È meglio che mi potenzio e poi... E sto tirando di quelle sventole alzino, non è mai sventolato così bene. Sicuro? Aiuto! Io voglio! Scusate, schifoso bastarda! Scusate, schifoso bastardo! Xenogram Di sotto! Scusate, schifoso! Scusate, schifoso! Scusate, schifoso! Forza! Scusate, schifoso! Scusate, schifoso! Scusate, schifoso! Scusate, schifoso! Non ti si può sentire questo verso! Un asciugno per l'ascimento E' un asciugno che è Via sta cosa Vabbè, ovvio che te ne vai sei nella pappa caro zinogra lo trovo lo prei cavati da cazzo ho uno zinogra da far secco dai zinogra muoviti sei stupido o cosa? non ti so pot sentire non ti so pot sentire jajaja il amor questa cosa stai male? e ci credo che stai male te ne sto tirando di santa ragione grazie amici miau ok allora altro di explosivo non ho vabbè tanto ti sto segando madonna miseria stronzo non ti si può sentire e merda e merda no a posto sono madonna ragazzi via 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 mamma mia mi ha incantonato lì mi ha incantonato lì e stava per farmi fuori sto maledetto cancaro ma ok qui che piscope che non esco la mozzare di stacola di mare che si trova non si può sentire va a fotto il tizionogra lo cazzo va, scappi oito bella questa mamma mia come cazzo ha fatto rimanere in vivo? non so, già guardate quante ragioni che ho come cazzo ha fatto rimanere in piedi adesso capisco perché la frenesia mi ha colpito adesso capisco tutto bastardo dai forza quindi maledetto non c'ho capito il cazzo merda merda mamma mia schifoso bastardo vai ragazzi potre fosce dopo il cazzo è merda via 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 Vabbè ragazzi, bene, mamma, non muore più sto po', eh. Bastardo. Laffa. Aiuto. Che schifoso bastardo. Ci sto mettendo più, adesso fallo fuori che a fare tutto quello che ho fatto fin prima. Voi siete morti, svenuti. Anche se mi viene a dire morti comunque vabbè. Meglio che mi muovo così forse riscaldate colpa di grazia. Ancora io sei, mamma mia. Sì, stai soppiccando, sì. No, vabbè, non ci credo. Mi ha infettato con un semplice salto. Mi faccio la cazzo. Dove sei? No, che si può sentire. No, vabbè. Che culo. No, vabbè. Quindi. No, vabbè. Allora. Dopo trent'anni sei crollato. Meno male. Ed è morto anche a fine zone. Very good. Vabbè. Dai Dio, mostro. Tutto scosso per lì. Vabbè. 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 Che forza tono indietro. Cos'è morto qui? Bene, ragazzi. E anche il zinoga è andato. Sì, ecco. Vabbè. Ero una testa a fuoco. Corazza. Corazza. Fulman, Scossa Pela, Corazza Scossa Pela, Gemma e Luce del Solle, questo ne è un casino, Gemma e Luce del Solle, Sfera Matura, Osso Mostro Più, Osso Mostro Grande, Micomio, Fulman, Corno e Artiglia. Fulman, Fulman, Cristallo Frenetico, un altro paio che raccolta l'erba, Vittoria Giondas, Sfera Matura, Vacca Vittorio Macalenta e Ferra, Ottimo, Gilbert, che non è strano, ok, notificalo o no, e vai così. Bene ragazzi, le ne ho date di Sant'Ambione, non mi fa fagliare la seconda volta. Bene ragazzi, questo è un playfish qui, ci siamo al prossimo, ciao a tutti!